Ehi ciao ragazzi, sono Alessandro, ho 31 anni e sono un grandissimo appassionato di manga e di fumetti. Forse mi conoscerete nel mondo del web con l'obsedonimo di Aldo Reign e per aver scritto magari la mia trilogia fanfiction Sunseya Next Generation. Ma non è di questo che oggi vi voglio parlare, ma vi voglio parlare dei miei video in speedpending. Che cos'è lo speedpending? Beh, avete due soluzioni, o cliccate sui miei video appena caricati e vedete di cosa parlo, oppure mi sarà da ascoltare per giusto 30 secondi. Lo speedpending non è altro che prendere un foglio in bianco, scegliere un soggetto, ad esempio questo, partire da zero, crearlo con la matita, portarlo all'inchiostrazione e forse qualche volta anche alla valorazione, che ho fatto qui in questo caso, montarlo su un video editor e riproporre il mio lavoro di un'ora, due ore in 6-7 minuti. Con la musica, con un menu, con forse delle spiegazioni. Tutto questo ragazzi viene un effetto fighissimo che vi consiglio di andarvi a vedere. Se non vi ho convinto ancora, vi dico che se vi iscrivete al mio canale, anzi dovrete iscrivervi al mio canale, condividerlo fortesemente, per farmi conoscere un po' qui e là, vi prometto che se vi iscrivete e messaggerete con me, farò tutte le vostre richieste di disegno, magari un fumetto, non tutto, una tavola di fumetto, un soggetto, un personaggio famoso, un personaggio inventato che volete che io vi inventi, qualsiasi cosa ve lo proporrò in chiave speedpending. Se vi piaccia l'idea, spero che vi piacciono i miei video, io vi saluto, torno al lavoro, ciao ragazzi!